Eccoci qua, ciao a tutti, ne approfitto per questo momento di viaggio, ovviamente non sto guidando, non sto guidando mia moglie Simona, questo momento è impegnata in un sorpasso, ne approfitto per promuovere il concerto che verrò a fare a Martirano Lombardo il giorno 22 dicembre, organizzato dall'associazione Roccondi Martirano Lombardo in Polizia di Catanzaro nella sala polifunzionale Cesare Nava che esita in piazza Matteotti, non vi so dire l'orario del concerto ma presumibilmente sarà alle 21.30, comunque trovate tutte le indicazioni su internet dell'evento facebook promosso, con me ci saranno Costa, Melotti e Bosca Riol che posso dire che nel repertorio ci saranno anche alcune anticipazioni del disco nuovo che uscirà più o meno a gennaio, quindi ci vediamo giù per il concerto, venite numerosi, vi aspettiamo, ciao, 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 ciao.